Il Comitato di Mobilitazione Cittadina a favore della Residenza Sociosanitaria Madre Clelia Merloni di Minervino Morge vuole tenere alta l'attenzione sul destino della struttura, i cui servizi sono sospesi. Francesco Rossi. L'esperienza drammatica del Covid ha lasciato dei riflessi e delle conseguenze ancora pesanti per la vostra comunità. Qual è la situazione oggi? La situazione è ancora di grande dolore perché la RSSA Bilanzuoli ha avuto un decreto di sospensione dell'attività e quindi pone questa situazione drammatica di persone che hanno avuto in questa struttura una realtà di casa, casa che sentono propria e che desiderano ritrovare. È invece assolutamente impossibile per questo decreto di sospensione della Convenzione con l'RSSA. Il Comitato sta cercando di tenere destra l'attenzione con una serie di iniziative. Sì, è una serie di iniziative che sono innanzitutto attraverso articoli e attraverso comunicati sugli organi di stampa, ma altresì con elementi e con eventi che tengono destra questa attenzione perché si possa ritrovare il prima possibile questa struttura per il bene delle persone più deboli, sono gli anziani coloro che ne hanno necessariamente bisogno. Qual è l'appuntamento di domenica e cosa prevede? L'appuntamento di domenica è il secondo che noi abbiamo messo in atto come comitato. Il primo c'è stato è stata una messa e l'abbiamo vista la settimana scorsa. In questa occasione presentiamo uno spettacolo teatrale che ha il titolo Targurd. È uno spettacolo in dialetto, prettamente in dialetto minervinese, che spazia in tutti i modi attraverso il canto popolare, attraverso la satira politica dell'inizio del novecento, che fa l'occhiolino un po' a trilussa, diciamo. È uno spettacolo curato e specialmente sulla parola. È uno spettacolo minimalista perché vedremo delle letture recitate, delle poesie recitate e comprenderà un cast vasto di una decina di protagonisti, tra cui bambini dai 9 a 12 anni e adulti come me che si cimentano. Il luogo è ora? Il luogo è la Villa Faro, domenica alle 20.30. È necessario tenere alta l'attenzione, lo abbiamo detto, ma soprattutto bisogna focalizzare l'attenzione su cosa? Su due elementi fondamentali. Innanzitutto che la struttura RSSA Bilanzuoli è un bene preziosissimo per la nostra città ma per tutto il territorio perché è uno dei pochissimi servizi che sono ancora rimasti e che sono necessari perché non abbiamo altre realtà e le persone hanno bisogno come il pane, potremmo dire, perché le persone devono sentirsi accolte, curate e amate. E la seconda cosa importantissima è proprio questo, cioè il lavoro della RSSA non è per qualcosa di proprio, né per un profitto, ma è per l'attenzione alla persona, la persona che non può rispondere ai tempi burocratici, che non ha assolutamente attenzione a questa realtà, la persona, i suoi bisogni, le sue necessità.